La Valle Gaudia è un luogo che in realtà appartiene alla mia famiglia, quindi è un luogo, io tra l'altro sono nata in quelle campagne, quindi è un luogo per me molto caro. L'abbiamo chiamato Valle Gaudia, il nome l'abbiamo dato noi proprio nella prospettiva di cercare di avere in questo posto il gaudio e la partecipazione delle arti, la creazione, la convivenza tra le varie specie di vita che vivono in campagna e che ti fanno rendere conto che davvero non sei l'unico essere su questo pianeta ed è molto importante ricordarselo. Insomma è uno spazio di condivisione non solo di esseri umani ma di condivisione con la natura a stretto contatto e la condivisione dei saperi, quindi non solo delle arti ma anche degli altri mestieri o delle altre scienze. Abbiamo avuto conferenze, abbiamo avuto laboratori appunto di saldatura. Un teatro un po' particolare, si può dire così, nelle zone di Tavuglia? Sì assolutamente, è un luogo diciamo recente come fondazione di questo esperimento di teatro che però è anche tanto altro, è circo, è luogo di incontro, luogo di presentazioni culturali. In questo caso ha raccolto al pieno delle sfide della Capitale 2024 che è quello di realizzare residenze artistiche, quindi artisti che per più giorni lavorano a un progetto producendolo e creandolo spesso da zero, da nuovo, in quel determinato luogo. Quindi diciamo, fruendo anche di quello che è il senso della contaminazione, del site specific, di legarsi a un luogo, una condizione in questo caso anche molto immersa nella natura, per sei progetti che quindi vedranno artisti per tanto tempo in presenza qua da noi a lavorare appunto a progetti collettivi e che ognuno otterrà assieme anche più generi artistici e creativi. In linea con quello che è in sé il progetto di Valle Gaudia, appunto che vuole essere una casa delle arti, abbiamo scelto sei residenze diverse spaziando fra diversi generi, quindi circo, danza, musica, performance, sound engineering e teatro contemporaneo. Quindi questi sono i generi che ospiteremo nel corso di queste sei residenze. Le compagnie sono di diverso tipo, di diversa provenienza, ce ne sono alcune italiane, altre straniere, quindi dal Regno Unito, dalla Spagna, dall'Iran e ovviamente anche dall'Italia. Alla fine di ogni residenza ci sarà un'apertura al pubblico, momento molto importante di scambio in cui gli artisti apriranno le porte di quello che è un lavoro in processo, quindi non si tratterà di vedere un lavoro finito ma di vedere proprio il percorso della creazione in atto. Le residenze andranno da questa settimana fino a luglio e il primo appuntamento sarà domenica 14 e tutte le informazioni si potranno comunque trovare sulla pagina Instagram di Valle Gaudia o sulla pagina Facebook di Valle Gaudia. Pubblicheremo tutte le informazioni in collaborazione anche con Peser 2024.